Siamo al 21 aprile, l'acqua nelle risaie c'è, io sono Mistractors e per chi mi segue su Facebook sa che io più o meno a metà marzo ho fatto questa promessa. Ho promesso che se entro la fine di aprile avessi raggiunto i 5.000 iscritti, mi sarei immersa dentro una risaia vestita di bianco e con la faccia dipinta di blu. Ma solo se raggiungo ci viene il green green green. Joe Breck, facciamo vedere quanto è profonda, facciamo vedere. Vai! Seduto! Oh mamma! Oh, ecco! Beh no, magari lo faccio lo stesso. Ma siamo matti, non ci penso proprio! Aspetta le vostre iscrizioni e quelle dei vostri amici e quelle delle vostre mamme e quelle dei vostri nipotini e cani, gatti, tutti quanti! Ho fo fo... Ho ho! Musica 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 Grazie a tutti.